Il sostituto in questo momento sta giocando bene, quindi hai due scelte importanti da quella parte. No, ho letto da qualche parte, sicuramente da una stovidaggine, dall'abbondanza al centrocampo sembrerebbe che Cataldi voglia via dal viaggio in gennaio, perché pure ieri ha preferito Murcia rispetto a Cataldi. Se fosse vero che comincia già a fare così alla sua età, e con quel poco che ancora ha dimostrato, se fosse vero, questo suo mal di pancia andasse pure, se non si trova bene alla Lazio, se devi creare problemi. Ma non credo, alla fine aveva giocato col Cagliari 90 minuti, anche a Torino aveva giocato, ci stava magari forse come scelta di turnover, quindi non credo che debba prendersela più di tanto. Sì, però mi trovo d'accordo con Gianfranco, però Cataldi non è nuovo a questi episodi, noi li vogliamo tutti bene perché è giovane, è tifoso della Lazio, ed è un talento in cui ruolo magari sarà un domani uno dei migliori in Italia. Mi ricordi a Faria Cobiglia all'inizio dell'altro campionato, insomma pure lui, secondo me c'ha ragione Gianfranco, c'è il timale di pancia, tu hai fatto 10 partite in Serie A, ok, accomodi, faccio la fine che è da, insomma. No, ma anche perché? Poi comunque c'è un allenatore che gioca comunque in base non alla gerarchia, ma a chi sta meglio durante la settimana, senza guardare la grafica, la Lazio è una che ha in campo 8, 9, 10 o 7 persone sotto i 23 anni, quindi non c'ha nessun problema da sto punto di vista in Zaghi, quindi spero che sia una stupidaggine. Sì, lo spero anche io, però ho qualche dubbio riguardo. Tutto per lui, eh. Intanto per uscire fuori magari dal mondo Lazio, è stato accostato il nome di Pioli alla panchina dell'Inter, nel caso che De Baer possa andare via. Sarei contento comunque per Pioli, anche se poi credo che sia difficile, perché credo che si chieda a un allenatore di Pioli di fare da traghettatore fino a giugno. Traghettatore sicuramente. Però credo che sia per un allenatore il massimo accettare una cosa del genere, però è sempre l'Inter con una squadra veramente competitiva, sarebbe difficile pure dire di no. Comunque sia... Non credo sia giusto mandare via De Boer in questo momento. Oddio, si troverbbe un Candreva non troppo contento di rivederlo, credo, però... Sì, sì. È vero anche quello, però diciamo che... È vero, non ce l'ho pensato. Il mister comunque è fermo da parecchio tempo e quest'estate l'hanno proposto, si è proposto avvicinamenti su varie e diverse panchine. Io immagino che comunque lui abbia voglia di fare calcio, quindi molto probabilmente accetterebbe anche l'idea di fare da traghettatore in questi mesi all'Inter, anche perché comunque sarebbe una bella vetrina per lui. Qualora si confermasse anche sulla panchina dell'Inter, penso sia molto difficile poi per lui riabbassarsi di livello, e quindi rimarrebbe comunque uno dei club più presi di Italia. Però per il gioco di Pioli, secondo te, può superentrare? Cioè nel senso, da una settimana all'altra, lui riuscirebbe già a dare un'impronta? Secondo me sì, per i giocatori all'Inter, soprattutto per gli esterni d'attacco, secondo me sì. Però, ripeto, pure sì, quest'ipotesi di traghettatore, per uno come lui non lo so, non è proprio entusiasmante. Caratterialmente non credo che sia un allenatore portato per una piazza così importante. Soprattutto così incasinata, penso io, perché credo che la panchina dell'Inter sia bollentissima. Ma al di là di questo, quello che hanno fatto con Mancini è stato inspiegabile, perché se avevano l'intenzione di cacciarlo, lo dovevano cacciare prima. Gli hanno fatto fare la campagna a questi e poi hanno mandato via. A quanti giorni dall'inizio del campionato? Una settimana, no, due settimane. Due settimane a inizio campionato, un allenatore come De Berger che comunque deve dare un'impronta ben precisa che richiede tempo. Ma non si è dimesso Mancini, Gianfranco? Non si era dimesso lui? Sembra che è un accordo tra le parti. Mancini che si dimette... No, 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 c'è stato un accordo tra le parti. Perché dimettersi vuol dire poi... Sì, quello è vero. Non percepire. Non c'è... Sembra strano conoscere il personaggio. No, però conoscendo il personaggio hai ragione, però secondo me aveva fiutato che meglio di così lui non poteva fare con quell'Inter e quindi ha lasciato... Sì, la situazione era talmente disastrata, ora non sono niente. Se il Bonetano l'ha fatto i danni pure lui. Sì, ma... Non ha accoltato niente. Ma infatti per me la principale causa di questi due anni di Inter è proprio Roberto Mancini che ha stravolto quando non serviva totalmente la squadra sia nel mercato di gennaio sia poi l'anno successivo. Quando girava bene la squadra l'altro anno nella prima parte di campionato si prendeva tutti i meriti, gli elogi, poi quando c'era da metterci mano e dare qualcosa in più io ho visto che comunque addossava colpe ad altri. Sì, ma anche la squadra costruita male negli anni secondo me. Ma è proprio l'Inter che è così. L'Inter... Ora ragazzi... Poi chiudiamo il discorso. I soldi ne hanno investiti molti. Chiudiamo il discorso Inter. Se non esce fuori i calciopoli l'Inter continua a buttare soldi e non vincere nulla non vincere neanche i campionati e non vincere neanche il triplete perché comunque è proprio come concezione non ha una struttura secondo me vincente non credo neanche... Credo proprio che sia un discorso di DNA cioè l'Inter se non ci fosse i calciopoli sono 30 anni che non vince in Italia e parla poi la storia dell'Inter che comunque è un club prestigioso perché ha dimostrato tanto ma sinceramente da quello che vedo io in questi ultimi 30 anni l'Inter dimostra di essere una società modesta. Comunque a parte l'Inter volevo dare un rapido aggiornamento sulle ultime due partite che mancavano per l'undicesima giornata di Serie A sono terminate Udinese-Torino alle 9 sul risultato di 2-2 al vantaggio di Benassi ha risposto Theroux portando poi Zapata in vantaggio l'Udinese ed essere poi raggiunta dagli Aic al 77 quindi risultato finale di 2-2 buon per noi perché comunque il Torino rimane ancora a debita distanza mentre il posticipo del Monday Night Cagliari-Palermo il derby delle Isole finisce 2-1 per i Sardi apre le danze De Sena su assist di Di Gennaro e raddoppia con una doppietta De Sena questa volta su assist di Marco Sau e accorcia le distanze poi il Palermo al 79esimo con Nestorovski quindi bella mi sembra se non erro già il quinto gol mi sembra il campionato beh ha fatto anche bene contro la nazionale italiana un buon centrale mi sa che ha segnato solo lui al Palermo credo sì probabile sì beh un bello scambio alla pari Giorgiovic mi stanno certo c'hanno l'anello al naso e la sveglia al collo non riusciamo no magari è pronto nonno è pronto nonno è pronto nonno ragazzi via appunto per Giorgiovic via Giorgiovic per fare cassa la Lazio punta forte su Sebastian Haller secondo un quotidiano romano i biancocelesti sarebbero disposti a mettere sul piatto 8 milioni di euro per convincere Lutrecht attaccante quindi di Lutrecht che ne chiede però 10 per liberare l'attaccante di classe 94 questi sono proprio i colpi all'aiglitare però se consideri che Giorgiovic comunque vuole andare via se dai via magari pure un giocatore come Kisna che penso tanto nella Lazio abbia poco spazio però è un vero peccato un vero peccato secondo me Kisna ci avrei ci avrei puntato cioè le partite che ha giocato mi ha sempre dato l'impressione comunque di uno che col pallone ci sa giocare forse pure un po' troppo innamorato del pallone in certi momenti però comunque non so l'avrei provato ancora un po' mi dispiace come ti spiega allora questa sua disabilità beh comunque ha avuto diversi problemi fisici come un po' tutti gli olandesi che poi sono passati alla Lazio in questo periodo forse non so in Olanda troppo latte non so hanno tutti i giocatori olandesi un po' tutti i giocatori vabbè poi ricordando Van Basten e comunque giocatori un po' più datati però diciamo questi problemi e poi comunque l'esplosione poi del tridente con Keita e Felipe Anderson gli hanno precluso un po' di spazio però prima di darlo via riproverei lo rispolverei rispolverei per vedere un po' come va e comunque l'altro anno Pioli anche quando c'era il peggior Felipe Anderson preferiva a Chisina quindi non ci ha puntato proprio l'altro anno ci deve essere ci deve essere ci deve essere qualcosa in effetti quest'anno quando è stato chiamato in campo purtroppo è stato uno dei pochi a fallire beh Bergamo all'esordio però era stato tra i migliori sinceramente non mi era affatto dispiaciuto nel tridente con Immobile e Lombardi poi da lì sarà con gli esordi va bene poi non riesce a dare continuità perché pure l'anno scorso segnò col Bologna la sua prima con la Lazio è una grande quartiera quella col Bologna la ricordo quindi boh forse è uno di quei giocatori che potenzialmente come ne sono passati tanti forse non avendo ce ne sono tardi Ederson ce ne sono voglia forse non avendo le coppe europee purtroppo non si può ecco poi giostrare più di tanto quindi magari ecco Simoninzaki preferisce più puntare su i tre su cui fa più affidamento rispetto che comunque su lui ma lo stesso Luis Alberto che poi magari è stato tanto decantato inizialmente quando è arrivato alla Lazio però poi ha fatto qualche spezzone sinceramente lui non mi ha impressionato più di tanto però forse prima di giudicare di dare un giudizio netto e definitivo andrebbe visto in una partita titolare si poi ogni giocatore ai suoi tempi diciamo di rodaggio tra virgolette perché pure Patrick l'anno scorso non è che abbia fatto questo gran canale sicuramente poi i giocatori spagnoli hanno bisogno di tempo quest'anno sta facendo bene ogni giocatore poi magari ai suoi tempi nel frattempo c'è la notizia che c'è un giocatore vediamo se se Marco e Alberto riescono a indovinare chi è che ha firmato un contratto con la propria squadra in cui guadagnerà 47.000 euro al giorno e la clausa recissoria non è stata ufficializzata ma voci di corritorio dicono che sia di un miliardo di euro io lo so chi è vai è Garrett Bale esattamente guadagnerà 17 milioni netti all'anno equivalenti a 47.000 euro al giorno 47.000 euro al giorno su 24 ore quasi 2.000 euro l'ora quasi 2.000 euro l'ora mezz'ora 1.000 euro in 10 minuti però posso dire almeno tre finanziate con tre carte di credito per carità di dio è un'esagerazione posso essere anche d'accordo con voi però secondo me è uno dei quei calciatori che sposta molto gli equilibri cioè il Real Madrid non vinceva una coppa dei campioni da 12 anni ha speso 100 milioni si era gridato un po' lo scambio 13 2001 2014 se non erro no dico 13 anni che non vinceva si era criticato tanto questo investimento di 100 milioni ma io penso che poi l'ha ripagato appieno il Gareth Bale con il Real Madrid perché da quando è arrivato lui hanno vinto due coppie di campioni comunque sia sicuramente la notizia va letta perché comunque è un'enormità però sul valore e chiaramente quando ci sono di mezzo a questi grandi club le cifre poi per quanto ha rinnovato quanto tempo 2021 adesso te lo riprendo stai a aspettare che finisce che va a scadenza o perché c'è un miliardo ofice e vai subito a pagare la club si portava l'ingesca con Giorgio scusa dentro ce lo metti comunque ce lo metti sempre Giorgio a prescindere poi non ho nessuno allora vediamo un po' se c'è scritto fino a quando dovrebbe essere 2021 o 2022 dovrebbe essere viene chiamato l'uomo da un miliardo di euro da oggi in poi non è specificato eccolo qua fino a 2022 ha rinnovato per 6 anni fino a 2022 è tardi devi mettere l'anima in pace tutto il compro c'è sempre la clausula di rescissione diciamo che poi è il giocatore che ha cambiato in realtà gli equilibri del calciomercato perché diciamo da questa valutazione che per quanto poi magari come diceva Marco un giocatore che ha dimostrato ed è vero che poi sposta gli equilibri è una potenza poi atleticamente devastante però 100 milioni secondo me sono stati poi esagerati e da lì diciamo abbiamo avuto queste valutazioni di mercato un po' anomale da quello a fare lì sì è vero però devi considerare che in base a ogni epoca c'è stato il giocatore che fa più che altro ricordo quella sessione di mercato il Real poteva prendere solo lui diciamo come top player rimasti sul mercato c'era solo lui quindi il Tottenham poi ha fatto un po' diciamo ha giocato un po' su questa cosa ha alzato il prezzo e il Real comunque aveva le mani legate doveva per forza comprare qualcuno per rispondere comunque alle altre big d'Europa ha fatto questa follia diciamo che poi si è rivelata vincente certo considera poi che quando si avvicina un grande club comunque la controparte alza sempre di più il paese qui si avvicina che è rivelata Grazie a tutti.